A Montanto di Gastro si è parlato dei diritti umani. I ragazzi della classe terza A della scuola media locale intitolata Gaglietta Gratoli hanno partecipato al concorso creato dal Senato della Repubblica e dal MIUR che porta il nome di Testimoni dei Diritti. Una delegazione del Senato guidata dal Presidente della Commissione sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo, il sedatore Pietro Marcenaro ha fatto visi dagli studenti. Naturalmente la questione dei diritti umani è una questione che dipende molto dal ruolo delle istituzioni, dalle istituzioni nazionali, delle istituzioni internazionali, ma dipende dal fatto che si formi un'opinione pubblica, una coscienza che su questi temi orienti le scelte, guidi l'azione politica, obblighi gli uomini che hanno come me responsabilità politica a confrontarsi con delle opinioni nel paese che chiedono risposte e questo secondo me è un passo di un lavoro che va in questa direzione. Durante il lungo dibattito col Senatore i ragazzi gli hanno posto numerose domande di vario genere sia sui diritti dell'uomo che sulla multietnicità nelle scuole. Proprio a Montalto e Pescia infatti la presenza dei alunni stranieri supera l'11%. Il prossimo 25 marzo gli alunni i montaltesi saranno infine spettatori di una seduta straordinaria a Palazzo Madama durante la quale verrà effettuato un resoconto dei risultati ottenuti grazie al lavoro svolto. A fare gli onori di casa è stata la preside dell'Istituto Comprensivo di Montalto e Pescia Romana, Maria Grazio Limpieri. Che ruolo svolge la multiculturalità nella scuola? Si tratta di un aspetto a due facciate. Da una parte c'è il diritto del ragazzo straniero ad essere accolto, ad essere integrato nella nostra realtà, a conoscere la nostra realtà e a inserirsi pienamente nelle nostre strutture scolastiche e quindi ad aiutarlo anche a conoscere e a utilizzare la lingua che in questo paese è di comunicazione. Dall'altra c'è l'arricchimento per i ragazzi della scuola perché il contatto con i ragazzi di altre culture, di altre nazionalità che hanno fatto altre esperienze diventa proprio un'occasione di crescita per tutti. Presenti inoltre all'evento anche gli assessori Rossi, Saito e Renzi, oltre al Sindaco Carai che ha parlato degli alunni come pedine fondamentali per il futuro del paese. Qual è l'importanza data dall'amministrazione comunale all'istruzione dei più piccoli? L'istruzione è chiaramente di primaria importanza perché attraverso le scuole passa sicuramente tutta la cittadinanza, se viene prestata una particolare attenzione sulle scuole, sull'istruzione penso che è una buona cosa, un'ottima cosa che un'amministrazione comunale fa nei confronti della scuola.